Sono Laura Lucchetti, ho scritto e diretto Il Fioreggio Mello. La scena della salina che ho scelto è una scena che è stata importante per i nostri due protagonisti perché nonostante avvenga nel film dopo dieci minuti circa dal loro primo incontro in realtà questa è la primissima scena che abbiamo girato con i due ragazzi. L'ambiente era meraviglioso e ha un impatto visivo fortissimo ma ci sono state delle difficoltà nel girare la scena dovute principalmente a un vento fortissimo ed è stato molto intenso per i due ragazzi perché in assoluto questa è stata la primissima scena in un film per Anastasia e per Khalil che sono i miei due protagonisti. Hanno dato il meglio di loro stessi, sono entrambi molto intensi ma devo confessare che l'intensità era anche dovuta alla grandissima paura di avere una troupe e una cinepresa davanti a loro per la prima volta. Khalil si è dato alla recitazione 100% lanciandosi sulla montagna di sale, ferendosi e facendo finta di niente e poi continuando nella sua missione contro le montagne di sale giocando a calcio con delle rocce, facendosi di nuovo male ma portando una verità alla scena che spero si noti che l'ha arricchita moltissimo.